5G, 5G, perché potrebbe essere la soluzione definitiva a tutti i problemi di connessione, il lancio dell'Internet of Things e un sacco di roba positiva? Perché questa futura tecnologia potrebbe rappresentare una così grande innovazione? Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video sul canale di Overvolt. Oggi, come dettito, lo parliamo del 5G, questa nuova connettività, che ovviamente è successiva al 4G, che sarà una figata per tantissimi motivi, è una cosa completamente rivoluzionaria, quindi ci vorranno anni, ma adesso vediamo tutto nel dettaglio. Partiamo dal nome. Perché si chiama 5G? Perché quello di prima si chiamava 4G? Non tutti lo sanno, ma 5G vuol dire semplicemente quinta generazione. Tutto è cominciato nel 91, quando è nato il 2G, perché 1G non è mai esistito, cioè semplicemente era la connettività telefonica. Nel 91 è nato il 2G, che era semplicemente la seconda generazione. Dopo il 3G, quindi poi l'attuale 4G, anche se qualcuno si sta inventando nomi strani, tipo 4.5G, che però non sono ufficiali, e questo 5G, che sarà la quinta generazione, si prospetta essere una sorta di Windows 10. C'è un qualcosa che sarà la versione definitiva, sarà un qualcosa che non esisterà mai un 6G, probabilmente. Questo 5G verrà upgradeato un po' alla volta, come Windows 10, perché su Windows abbiamo avuto XP, Vista, 7, 8, 10, e da 10 non c'è più stata nessuna versione. Si continua ad aggiornare 10, si continua a migliorarlo, però non ci sarà probabilmente una prossima versione di Windows, o ci sarà quando ci sarà un grossissimo upgrade. Il 5G si prospetta essere alla stessa maniera. E perché? Parliamo della tecnologia su cui si basa tutta questa nuova connettività. E per parlare della tecnologia, devo prima premettere che non esistono degli standard concordati universalmente per il 5G. È una cosa ancora in fase di sperimentazione, si stanno facendo esperimenti, si sta provando a cercare l'idea migliore per realizzarlo, però non c'è ancora uno standard che definisca che cos'è effettivamente il 5G, proprio nei minimi dettagli. Possiamo però avere un'idea di quello che sarà, perché comunque ci sono delle linee guida, si è a buon punto con la progettazione, e c'è appunto un obiettivo tangibile. E quindi queste cose si sapranno della nuova connettività 5G. Innanzitutto sarà veloce tra le 10 e le 100 volte la velocità del 4G, che è tantissimo, cioè 10 volte la velocità del 4G come minimo. Potrebbe arrivare a essere 100 volte più veloce del 4G. È una bella bestiaccia. Ma come scopriremo tra un attimo comunque, tutta questa nuova tecnologia non ha lo scopo unico di farvi vedere i film su Netflix più velocemente, o di poter guardare YouTube in 4K mentre si è in giro per strada. Lo scopo e l'obiettivo principale di questa nuova tecnologia è l'Internet of Things, le smart cities, le nuove città smart piene di sensori, di internet delle cose, di macchine a guida autonoma, di robot. Continuiamo invece a parlare dei bullet points, di quello che sarà il 5G. Abbiamo detto che le velocità sono tra 10 e 100 volte il 4G. Quindi si raggiungerebbero delle velocità di 20 gigabit per secondo. 20 gigabit, cioè sono tantissimi. Ovviamente col tempo, perché come abbiamo detto è una sorta di Windows 10, quindi parte che è una figata e poi si upgrade un po' alla volta fino a diventare ancora più una figata. Quindi il limite a cui tendere sarà i 20 gigabit per secondo, ovviamente non ci saranno fin da subito, però le velocità comunque sono significativamente maggiori dell'attuale LTE 4G. Le altre tre caratteristiche di questa tecnologia sono tutte riguardanti la tecnologia in sé, cioè proprio come funziona tutto questo. E come funziona? Quale sarà la grossa differenza del 4G? Il 4G essenzialmente ha delle antenne broadcast, cioè un'antenna così che broadcasta, cioè cast vuol dire trasmettere, inviare, e broad vuol dire largo, quindi invia un segnale in maniera larga, cioè lo invia tutto attorno in maniera indiscriminata. La differenza è che il 5G sarà invece costituito da tante antenne direzionali, cioè come la parabola di Sky che avete sul tetto per dire è una cosa direzionale e quindi punterà direttamente al vostro dispositivo. Non ci sarà più l'antenna in cima della montagna o alla collina che butta il segnale ovunque tutto intorno, ma ci saranno tante antenne che puntano proprio i dispositivi in quel piccolo pezzetto di suolo. E perché tante antenne? Ovviamente sia per il fatto che non saranno broadcast, ma anche perché questo nuovo 5G sfrutterà delle frequenze molto più elevate del 4G. Le onde saranno millimetriche, cioè il periodo dell'onda sarà largo millimetri, quindi un'onda molto molto piccola, ad alta frequenza, però onde del genere, lo sappiamo anche dal Wi-Fi, non attraversano i muri e addirittura non attraversano la pioggia o qualsiasi ostacolo solido o qualcosa del genere. Con il Wi-Fi lo sappiamo perché il Wi-Fi ha 2.4 GHz, passa le pareti, vi arriva anche nell'altra stanza, vi arriva anche dall'altra parte della casa, ovviamente viene attutito, più muri ci sono in mezzo, meno segnale arriva, però le attraversa qualche stanza. Il segnale del Wi-Fi 5 GHz invece non passa le pareti, o magari una parete se è leggera riesce anche a passarla, però non di più. Il Wi-Fi 5 GHz è subito interrotto dagli oggetti solidi. E la stessa cosa sarà per queste antenne del 5 G, che avranno un'altissima frequenza, ma saranno ostacolate sia dai muri, sia come ho detto della pioggia, che non è una bellissima cosa. Però l'altissima frequenza ovviamente sarebbe poter trasmettere un botto di informazioni in ogni millisecondo. Quindi ci sarà proprio bisogno di una nuova infrastruttura che avrà l'impatto nelle nostre città, dell'infrastruttura della fibra to home, ad esempio. Cioè ci sarà bisogno di tantissime antennine piccole, perché non servono grosse come quelle del 4 G. Essendo le onde più piccole e le antenne pensate per trasmettere a più breve distanza, queste ultime possono essere ovviamente molto più piccole. E quindi nelle nostre città ci sarà bisogno di mettere un sacco di antenne. Nei lampioni, nei cestini della spazzatura, nei tombini. Dovranno essere sforpagliate antenne dappertutto, perché ogni singolo edificio costituisce uno schermo praticamente totale all'antenna che c'è dall'altra parte. Quindi bisogna che ci siano antenne veramente dappertutto. Ciascuna antenna avrà poca portata di segnale, però se ne mettete tante avete una città che è completamente connessa. Ovviamente tutte queste antenne devono essere connesse tra di loro da una dorsale in fibra che sia velocissima, perché la connessione tra di loro non deve ovviamente fare d'accordo di bottiglia. Però tutte queste piccole antenne sparse su tutto il territorio capillarmente garantirebbero 5G, oltre a una super velocità, anche una latenza bassissima. Si parla di latenza di un millisecondo, cioè il ping, i ritardi di risposta insomma, sono dell'ordine di un millisecondo. Quindi una roba veramente istantanea e questo ovviamente faciliterebbe un sacco l'Internet of Things. Perché tutto questo 5G, come ho detto prima, non è pensato per farvi usare Netflix quando siete alla fermata dell'autobus, non varrebbe la spesa, perché comunque sono da spendere veramente decine di milioni di euro per ogni città in cui si vuole portare il 5G. immaginatevi mettere antenne dappertutto, il costo che può avere. Quindi nessuno gliene frega niente del vostro Netflix alla fermata dell'autobus, anche se sarà un beneficio collaterale. I veri protagonisti di questa nuova tecnologia, come ho detto, sono i dispositivi Internet of Things, la robotica, insomma la comunicazione machine to machine. Quindi non la comunicazione da macchina a umano, la comunicazione da macchina a macchina. Siano queste macchine robot, siano self-driving car, che con una latenza di millisecondi praticamente si potrebbe delegare la guida autonoma a dei server esterni, e non tutta sulla macchina, perché tanto con latenza di un millisecondo l'incidente comunque non lo fai. Se c'è una latenza di un secondo, quando devi fare la curva, è un po' un problema, rischi di finire giù per la scarpata. Con latenza di millisecondi, tutta la questione dei veicoli a guida autonoma, che siano droni per le cose né Amazon, che siano macchine, che siano camion, autobus, qualsiasi tipo di veicolo a guida autonoma, anche macchine agricole nelle campagne si parla, anche se comunque nelle zone rurali, ovviamente, il 5G arriverebbe più con calma. Però si parla veramente di una rivoluzione tecnologica. Anche per la robotica, ad esempio, pensate a un robot chirurgo, di quelli che, c'è il chirurgo magari in un'altra città, che è un chirurgo esperto, che solo lui sa fare quell'operazione, il robot che sta operando il paziente, e il chirurgo in un'altra città che lo guida, avere latenze è praticamente nulle, e avere una roba in tempo reale permetterebbe magari di salvare più vite, perché il chirurgo ha veramente il controllo istantaneo, il feeling, proprio come se fosse lì di persona a operare il paziente. E quindi anche questi robot chirurghi farebbero un enorme passo avanti con il 5G. Insomma, sarebbe veramente una rivoluzione della tecnologia capillare che ormai si sta diffondendo, perché sono sensori dappertutto, ormai le macchine videotono ma cominciano a diffondersi, le case domotiche, smartwatch, smartphone, tablet, cuffie, comunque ci stiamo riempendo di tantissimi dispositivi, che attualmente sono connessi tra di loro o via wifi, o via bluetooth, o via 3G, o via 4G, comunque hanno diverse connettività, se ci fosse un'infrastruttura capillare totale del 5G, tutte queste potrebbero comunicare istantaneamente di loro in maniera fluida, in maniera... sarebbe una figata. Tra l'altro si parla di una sopportazione di densità di dispositivi, attorno ai un milione di dispositivi per chilometro quadrato, che sono veramente tantissimi, cioè in un solo chilometro quadrato un milione di dispositivi, e quindi non si avrebbero tutti gli attuali problemi del 4G, ad esempio, che quando c'è un concerto a cui c'è tanta gente, quando ci sono grossi assembramenti di persone, attualmente il 4G non funziona, cioè la torre 4G non riesce a gestire tutti i dispositivi, tantissimi si trovano senza connessione, invece non ci sarebbero più tutti questi problemi, si potrebbe ficare un numero impensabile di dispositivi per ogni chilometro quadrato. Ma quindi questo 5G, quando sarà disponibile? Perché se ne parla tanto, ma non abbiamo ancora definito uno standard, insomma, non è una tecnologia che può essere abilitata dall'oggi al domani, come abbiamo detto, serve un'infrastruttura pesantissima in tutte le città, pesantissima sia come lavori, sia come progettazione, perché devi calcolare ogni edificio, ogni interferenza, e ogni volta che in un terreno che prima era vuoto, si costruisce una casa, ti cambia proprio tutta la carambola dei segnali, ti cambia la ricezione, sarà veramente un casino, sia come progettazione, sia come realizzazione, sia come costi. Attualmente i nostri smartphone, e c'è mia nonna che mi sta chiamando, non sono capaci di utilizzare la tecnologia 5G, cioè non esiste nei nostri smartphone, Huawei, ad esempio, pensa di cominciare a produrre i primi dispositivi 5G enabled per il 2019, quindi si parla dell'anno prossimo. Al Mobile World Congress di Barcellona, comunque di quest'anno, del 2018, moltissimi produttori di dispositivi, ma anche erogatori di servizi, come Vodafone 3, eccetera, stanno investendo un miliardi di euro per queste tecnologie, quindi è una cosa che, verso la quale si sta spingendo un sacco, arriverà relativamente presto, ma non così presto. I primi dispositivi, come ho detto, saranno nel 2019, si comincerà ad adottarlo in maniera concreta nelle città nel 2020, e si conta di raggiungere una buona copertura, come quella attuale del 4G, per il 2025, quindi tra sette anni. Comunque ci sono già delle sperimentazioni, in qualche città britannica hanno cominciato a cablare via 5G alcune piazze, solo per dimostrazione, hanno messo un sacco di gente con degli Oculus, e tutti riuscivano a giocare in realtà virtuale, in 4K, in tempo reale, quindi senza il minimo lag, però si parla di esperimenti localizzati. Anche qua in Italia, a Matera, questo marzo, marzo 2018, è stata posta la prima antenna 5G, in una via del centro, però stiamo parlando di un'antenna, quando abbiamo appena detto che ne serviranno veramente milioni in ogni città. Comunque una delle prime città ad adottare massivamente questa tecnologia, probabilmente sarà Tokyo, per le Olimpiadi del 2020, quindi Tokyo 2020, probabilmente ci sarà il 5G, in tutta la città, per le questioni delle Olimpiadi, tutta la gente che arriva, eccetera eccetera. tecnologia innovativa, quindi dal grandissimo potenziale, vediamo cosa riusciranno a fare, vediamo in quanto tempo più che altro, perché si prospetta veramente una rivoluzione, di come intendiamo la tecnologia oggigiorno, e di come intendiamo le nostre città oggigiorno. Detto questo, pollizioni su al video, ricordatelo, so che stai ancora guardando il video, quindi puoi toglierlo da schermo intero, e mettere like, se il video ti è piaciuto. Se vi state guardando questo video, ma non siete iscritti al canale, trovate un bellissimo bottone rosso qua sotto per farlo. Noi ci vediamo sabato con un video di hacking, mercoledì prossimo con un altro video un po' chiacchierata come questo, e così via, insomma tutti i sabati e tutti i mercoledì, a luna, a luna, non sono mai puntuale. Comunque per questo video è tutto, pollicione in su ve lo ricordo ancora, ciao! Ciao!